C'è ancora possibilità, 5 massimo 10 minuti per le iscrizioni ai 200 metri. La raccolta fondi è di 1 euro partecipante, alle ore 8 prenderanno in via queste gare, faremo alcune batterie degli atleti che ci saranno evitati. La raccolta fondi è di 1 euro partecipante, alle ore 10 minuti per le iscrizioni ai 200 metri. La raccolta fondi è di 1 euro partecipante, alle ore 10 minuti per le iscrizioni ai 200 metri. La raccolta fondi è di 1 euro partecipante, alle ore 10 minuti per le iscrizioni ai 200 metri. La raccolta fondi è di 1 euro partecipante, alle ore 10 minuti per le iscrizioni ai 200 metri. La raccolta fondi è di 1 euro partecipante, alle ore 10 minuti per le iscrizioni ai 200 metri.